Certo, io hai degli anni che faccio attività politica, sono un imprenditore, qui siete nella mia azienda, nell'ufficio della mia azienda, io ho un'azienda grafica e ho sempre avuto modo e piacere di promuovermi anche come politico nella città, perché è una città importante, è una città che ha bisogno di persone che conoscono il mondo del lavoro. Ho militato in partiti formati nell'area di centrodestra e da alcuni anni ho deciso di fare un movimento di cittadini che si chiama Gol, Giustizia, Onore e Libertà, perché riteniamo che questi tre valori che sono fondamentali per noi non negoziabili, se tu li declini in qualsiasi situazione che ci sia dal punto di vista lavorativo, nella famiglia, nella società, trovano sempre quella giusta collocazione e mettono in condizione le cose di andare a fare. Modena, diciamo, è una grande città, una città importante. Le amministrazioni che ci sono susseguite non è che abbiano fatto il male di Modena, però a 10 anni hanno privilegiato solo una parte di Modena. Noi vogliamo che ci sia un cambiamento, che questo cambiamento sia più un cambiamento come c'è anche nel nostro simbolo di libertà. Vogliamo che ci siano qualsiasi possibilità per tutte le persone che vivono in questa città, dal commercio, che non si privilegi il commercio, magari delle grosse distribuzioni come sta succedendo adesso, al commercio privato che purtroppo è stato penalizzato a partire dai centri. Vogliamo che ci sia quella sicurezza che purtroppo è venuta a mancare per politiche troppo boniste, magari sia a livello nazionale che anche a livello comunale e amministrativo. Noi siamo per una corretta integrazione, siamo per rispetto delle regole, ma non siamo contrari che le persone non vengono nella nostra città. La gente deve venire nella nostra città e deve lavorare. Siamo per l'impresa, perché l'impresa deve crescere. Siamo contro la chiusura delle imprese, delle imprese edili, delle imprese di qualsiasi tipo. Siamo per rilanciare quello che possa essere l'impresa giovanile. Noi abbiamo e costruiamo dei giovani preparatissimi e importanti, importanti per le conoscenze. Queste conoscenze importanti vanno all'estero e vanno al servizio di altre nazioni che valutano maggiormente, con più attenzione, i nostri giovani. Siamo per una viabilità più ordinata. Vogliamo che ci sia una viabilità che sia a misura d'uomo. Modena è sempre stata una città troppo policentrica. È una città che tutto grava sulla città. Bisogna un po' aprire questa città, portare una città a essere una città più importante, portare anche fuori certi uffici, come il Tribunale, certe altre cose, che arrivano a essere dei contenitori sterili che non portano nulla alla città. Solo un servizio che poi in realtà è un servizio che si può fare logisticamente anche fuori. Vogliamo che ci sia una viabilità fatta su un discorso di metotranvie leggere o filotranvie leggere, di non trovarsi tutti i giorni a fare dei percorsi di tragitti in strade che sono chiuse a un traffico, che ciò vuol dire avere anche un rischio di incidenti, un costo sociale per la sanità e quant'altro. Vogliamo una salute, una salute che sia migliore. Vogliamo che venga chiuso o ridimensionato l'inceneritore. Già da tanti anni si parlava di inceneritore, già da tanti anni noi continuiamo a bruciare roba e materiale che viene proveniente dalle altre città. Più cosa dire? Vogliamo che questi contenitori dismessi, Sermafanti, Lex Fonderie, il mercato bestiame, tutte queste situazioni siano rivalutate nell'interesse della città. Cosa vogliamo? Vogliamo che Modena sia una città più a dimensione d'uomo. Vogliamo che una città che possano convivere sia i giovani che gli anziani. Non si può pensare che chi va in bicicletta sia un ecologista e chi va in macchina non sia un ecologista. Non si può pensare che chi vuole divertirsi sia un giovane fracassone e chi vuole vivere la città non sia un giovane adatto. Una città deve integrarsi ed una città deve crescere. È fondamentale però che si dia spazio al discorso dell'impresa. Io sono un imprenditore quindi mi sono sempre prodigato e speso a favore dell'impresa. Per un semplice fatto, perché l'impresa fondamentalmente è tutto. Oltre che vuol dire creare occupazione, creare lavoro e anche sicurezza. Perché se le nostre imprese possono creare lavoro, questo lavoro permette a certe persone di non dover andare a delinquere, a non dover fare delle cose perché hanno un loro sostentamento dovuto dal lavoro. Quindi bisogna in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo adesso, e questo mi rivolgo e se fossi un amministratore lo farei, bisogna semplificare, ma semplificare al massimo, sburacratizzare e togliere tutte tasse e gabelle che mettono in condizioni l'attività di non andare avanti. Oggi noi abbiamo una mortalità nelle nostre imprese che è tantissimo. Tante imprese chiudono e tante imprese hanno delle situazioni non più di vantaggio, perché lavorano e non è che non guadagnano. Quando sono in fondo per pagare i dipendenti, per pagare tutte le spese, non hanno degli utili, non possono andare avanti. Bisogna ridurre tutte le spese di energia, tutte quelle che sono tutte le utenze per le imprese, per le famiglie, perché sono onerosissime. Non si può pensare che ci siano degli amministratori che guadagnano milioni o centinaia di migliaia di euro e ci sono delle persone che non hanno neanche i soldi per pagarsi la luce, l'acqua e il gas. Bisogna che ci sia un regime di maggiore equità. Equità vuol dire che qualsiasi persona che ha diritto di avere un servizio lo deve avere, anche se in condizioni di non poter pagarselo, non poter gestirselo. Noi non chiediamo un voto perché siamo i più bravi, noi chiediamo un voto perché crediamo in questa città e questa città per noi è la nostra città, perché io ci ho vissuto da 40 anni. E per questa ragione noi abbiamo fatto un comitato dei cento all'interno del nostro gruppo per una Modena che vorremmo, per fare una guida che sia magari programmatica per uno sviluppo dei prossimi 20 anni. Perché noi non abbiamo uno sviluppo che sia integrato e uno sviluppo che sia collegato con la crescita della nostra città. Per questo io vi esorto, se vi va, votate gol. Noi siamo un movimento civico di persone, siamo persone come voi e amiamo la nostra città.